Abbiamo chiesto a dicembre un Consiglio Comunale aperto sui temi dell'economia, quindi dell'emergenza economica, per individuare all'interno del Consiglio delle strategie per provare a sostenere la città in un momento di grande difficoltà. Il Consiglio doveva essere convocato da statuto e da regolamento entro 20 giorni e invece sono passati 160 giorni, quasi 5 mesi, e non c'è traccia di questo Consiglio Comunale. Abbiamo chiesto quindi al Prefetto di ristabilire le regole della massima assise comunale e Consiglio Comunale. Dopo 160 giorni dalla richiesta di convocare una seduta aperta del Consiglio Comunale, così Marco Donati di Scelguarezzo, assieme ad altri consiglieri, ha deciso di rivolgersi direttamente al Prefetto di Arezzo, Anna Palombi. Ci aspettiamo intanto che l'amministrazione voglia parlare dei temi economici di questa città, dell'emergenza economica, delle questioni logistiche, delle infrastrutture immateriali, di turismo, di nuova economia, di formazione, di una città che si ricompatta e trova soluzioni rispetto al Covid. Di allargare la discussione in città e soprattutto che il Presidente del Consiglio Comunale ci consenta, seguendo le regole dello Statuto, ci consentano i consiglieri di poter dire la nostra e di avere lo spazio necessario a dare il nostro contributo alla vita della città. Abbiamo delle idee e dei contributi da dare, ci dia uno il luogo e lo spazio che la legge ci consente per poterlo fare. Io credo che il Consiglio Comunale da tempo avesse perso la propria funzione, che è una funzione importante di controllo e di indirizzo rispetto alla giunta. Se ci sono dei momenti in cui le giunte sono lente, il Consiglio Comunale può essere da stimolo, ma si deve consentire di fare il proprio ruolo e ai consiglieri che hanno qualcosa da dire, giusto o sbagliato, di poter dare il proprio contributo alla vita della città. Il Consiglio Comunale deve tornare centrale e deve essere visibile ai cittadini per quello che i consiglieri possono dare a questa città.